L'Abruzzo è vicino ad eleggere garante dei detenuti per gli istituti penitenziari e segretario provinciale e vice segretario regionale UIL penitenziari Mauro Nardella esulta in una nota. Dovrebbe essere martedì 22 marzo il sospirato giorno deciso dell'assise regionale per offrire anche alle carceri abruzzesi la possibilità di avere un ulteriore interlocutore capace e si spera di raccontare in maniera legale e scevra da commenti azzardati e improvvisati il mondo penitenziario riferisce Nardella. Tutto questo non può altro che far piacere a un'organizzazione sindacale come la nostra da sempre vicina a una figura che siamo sicuri lavorerà. La figura del garante vorremmo che desse l'opinione pubblica una reale idea di quello che fanno i poliziotti penitenziari, gli educatori, i medici, gli assistenti sociali ma soprattutto che collabori insieme a noi a migliorare il mondo carcerario ai limiti dell'invivibilità sostiene sindacalista che aggiunge la sua preziosa opera è volta a far conoscere le condizioni spesso scadenti nei quali vengono ristrette le persone condannate e che si speri concorra a far prendere decisioni importanti in termini di rilancio degli investimenti per questo settore e di salvaguardia dei parametri di sovraffollamento. Le disfunzioni strutturali, le infiltrazioni di acqua piovana, le muffe all'interno delle docce sono fattori i quali soggiasce anche la polizia penitenziaria. Vedere un detenuto vivere la sua carcerazione in una condizione dignitosa conclude significherà per noi assolvere meglio quindi ai doveri del nostro ufficio.